In questa novena dedicata a San Pio vogliamo presentarvi alcuni eventi che si svolgeranno nel corso di questi giorni e a presentarli qui nei nostri studi proprio i protagonisti. Stiamo parlando di un concerto per Padre Pio e di un musical che abbiamo già avuto modo di conoscere. In nostra compagnia, oltre ad alcuni protagonisti di questi due eventi, è anche Don Salvatore Miscio. Bentrovato. Bentrovati a tutti voi. Don Salvatore è qui anche in rappresentanza dei giovani, visto che gli attori protagonisti di questi due eventi sono proprio giovani. Sì, intanto c'è Domenico che poi avremo modo di ascoltare direttamente, anche se so che al pubblico di Teleradio Padre Pio è già noto. E poi parleremo di tutti i ragazzi che Giovanni, anche lui volto già noto, perché non è la prima volta qui in questi studi e con noi a presentare queste iniziative, Giovanni con questo progetto di cui ci parlerà coinvolge proprio tanti giovani ed è un modo anche per proporre un cammino di conoscenza, di fede. Da parte di Domenico, quindi attraverso uno spettacolo, un concerto vero e proprio, di testimoniare anche attraverso la musica questo legame con San Pio e Pietrelcina e di conseguenza anche la sua fede. E infatti, come tu stesso anticipavi, Domenico Consale? Ciao a tutti E Giovanni, ricordami il cognome Giannone Giannone, giusto, è stato qui a presentare un musical su Padre Pio che adesso riprenderà. Partiamo da Domenico, un concerto per Padre Pio il 21 settembre qui a San Giovanni Rotondo, in occasione anche per i pellegrini che insomma si ritroveranno ad ascoltare una buona musica. Sì esatto, è un concerto non solo per i pellegrini ma anche per i cittadini di San Giovanni Rotondo, in quanto siamo a cavallo tra il 22 e il 23 dove ci sarà il grande evento poi della veglia di San Pio, quindi anche un'occasione per festeggiare nel nostro paese, nella nostra città, il nostro santo. Tu hai un legame particolare con Padre Pio, hai dedicato a lui tantissime canzoni, perché comunque le scrivi tu, i testi sono tuoi. Sì, io ho un legame particolare soprattutto per il fatto che comunque sono nell'ambiente, quindi sono molto vicino a lui e ho molto materiale da assorbire stando vicino a lui e ho seguito specialmente in questo periodo, quest'anno, ho seguito proprio quella frase che diceva dove ti porta il cuore. E il cuore mi ha portato proprio alla voglia di realizzare questo concerto a devozione per lui. Don Salvatore ti ricordi, me lo presentasti tu, Domenico Consale, forse tanti, anche i tanti che ci seguono da casa lo hanno conosciuto in quell'occasione. Era una rubrica dedicata ai giovani, Giovanni e Musica. Sì, Giovanni e Musica, sì. Pensammo proprio a Domenico intanto per questo legame che ha con la musica e per il fatto che nella musica esprime tanto di quello che è, che vive e poi anche l'esperienza stessa del suo cammino di fede, di devozione a San Pio da Pietrelcina. E poi abbiamo avuto anche modo di seguire il suo coraggio nell'intraprendere la strada molto difficile di Sanremo attraverso quella possibilità che da un po' di anni viene data ai giovani, che è quella di Sanremo Web. Per cui credo anche che Domenico forse ci debba rivelare qualcosa a questo riguardo, poi ce lo dirà, ci chiederà qualcosa. Per cui sì, insomma, è bello vedere quanto i giovani credono così tanto nella musica, soprattutto in un tempo nel quale, insomma, è sempre più difficile emergere, diciamo, in questo campo. Domenico scrive testi e musica, questo lo abbiamo, insomma, già detto prima. Ovviamente non scrivi però soltanto testi a carattere religioso. No, mi impegno anche a scrivere, diciamo, testi che vadano al di là della spiritualità, ma sicuramente con contenuti, diciamo... Che riguardano anche il mondo giovanile, problematiche. Che riguardano il mondo giovanile, sì, questo sicuramente. Invece questo concerto che si terrà domani, 21 settembre, in particolare, insomma, è dedicato a San Pio da Pietrelcina. Quindi quante canzoni hai scritto per lui? Allora, di canzoni ne ho scritte più di 20, diciamo, in totale, che sono racchiuse in una trilogia di dischi. Il primo disco che è uscito nel 2004, Padre più in mezzo a noi, dove ci sono dieci brani. Poi è uscito Igna San Pio, poi la ristampa di Igna San Pio. Quindi in ogni CD ho cercato di mettere sempre delle nuove canzoni. E in questo concerto presenterò sette brani del disco, poi presenterò altri sette brani che sono brani inediti miei, di cui anche quello che ho portato a Sanremo nel 2011. Questo concerto sarà proprio vario perché la novità sarà anche un aspetto comico che verrà inserito all'interno di questo concerto con la partecipazione di Enzo Salvi. Sì, che ringrazio di cuore perché mi ha fatto un regalone dicendomi di poter venire a questo spettacolo. Tra l'altro lui è un grande devoto di Padre Pio. Quindi anche un concerto diverso dal solito, perché sappiamo bene come anche Padre Pio amava tanto ridere. Era anche molto legato ad alcuni attori, tra cui ricordo Campanini e Beniamino Gigli. Quindi diciamo la mia fantasia, quando ero lì a pregare Padre Pio dicevo fammi fare qualcosa di bello, qualcosa che ti piace e sono arrivato diciamo poi a mettere insieme tutte queste cose inaspettatamente tra l'altro perché la presenza di Enzo Salvi non me l'aspettavo sinceramente e poi si è concretizzata. Benissimo, quindi sarà in compagnia su questo palcoscenico e ovviamente c'è questa sorpresa insomma. Il lato ironico di Padre Pio, Don Salvatore. Di solito di Padre Pio si dice insomma burbero, un po' severo. In realtà aveva anche un lato ironico. Si racconta anche di tutto questo, poi ci sono diversi frati che ci hanno tramandato diverse storiele, sia Barzellette che magari lui riprendeva, sia sue espressioni simpatiche. Tra l'altro qualcuno l'ho visto ripreso da Carlo Tedeschi nel musical Un Fremito Dali di cui parleremo adesso con Giovanni. Sì, poi lui si portava un po' addosso questo tessuto campano da cui venivano, quindi diciamo vicino a Napoli, quindi questa ironia tutta un po' partenopea. E poi era un uomo di spirito, nel senso doppio del termine, cioè nel senso che era un uomo che viveva anche con quella capacità, quella leggerezza tipica di chi ha una serenità nel cuore, che gli viene dal rapporto col Signore, che riesce poi sempre ad andare oltre, a sdrammatizzare, forse anche a prendere con un po' di ironia la vita, le vicende che succedono. Un santo, ci fa piacere insomma di conoscere questo aspetto. Passiamo alla commedia musicale, al musical, presentato qualche mese fa proprio qui, in questi studi da Giovanni. Un Fremito Dali, questo è il titolo dello spettacolo, La vita di Padre Pio vista dagli angeli. Una prospettiva un po' diversa, particolare. Per chi già l'avesse visto, insomma, è stato davvero inchiodante. Ti inchiodai effettivamente alla sedia e si è affascinati da tutto quello che succede sul palcoscenico. Perché è particolare questo spettacolo, Giovanni? È particolare perché si può sentire, si può vedere realmente quella che è la figura del santo. Io ricordo che prima di vedere questo musical non conoscevo Padre Pio, non conoscevo questa figura e ho iniziato a conoscerla interpretandola. E si scoprono appunto tanti aspetti, anche il lato ironico di cui parlavamo poco fa, che uno non crede perché solitamente si immagina la figura di Padre Pio come quella di persona anziana. Sì, e invece ha tutte le sfaccettature, tutte le bellezze che ha una figura di un santo, di un uomo che riusciva in qualche modo a coinvolgere tutti, ha creato tutto quello che c'è oggi. Quindi qui è San Giovanni Rotondo. Quindi sì, è un musical che veramente riesce a trasmettere tanto, sia in chi lo vede, sia in chi lo interpreta. Infatti è un musical, che dico sempre, che ha due pubblici, chi guarda e chi lo vive. C'è un retroquinta che è eccezionale, perché è un retroquinta di giovani che interpretano, studiano, danzano, ma poi arrivano lì e in qualche modo riescono a tirare fuori tutta la bellezza che hanno dentro. E questo è quello che ha spinto, che ci spinge sempre a continuare. Oltre al fatto che c'è una richiesta, la richiesta di persone che lo hanno visto, che già stanno richiedendo di ricominciare. E infatti state provvedendo a questo. Sì, stiamo provvedendo. Noi lo abbiamo presentato i primi giorni di luglio, una compagnia stabile. Quindi siete qui ancora, evidentemente anche con tanto successo. Stiamo anche vedendo alcune immagini, in particolare Corrado Tedeschi, che poi è... Carlo. Carlo Tedeschi, scusami. Carlo Tedeschi, che poi insomma è colui che ha messo in scena tutto questo, che ha voluto questo spettacolo. Don Salvatore, quante volte l'hai visto questo spettacolo? Beh, io nella versione... Come accompagnatore, perché molte volte ti abbiamo visto anche accompagnare tante persone. In quella che è la versione, tra virgolette, ridotta o una sintesi che viene offerta qui a San Giovanni Rotondo, perché lo spettacolo originale dura poco più di due ore. Questo offerto a San Giovanni, pensato proprio per i pellegrini, e quindi tenendo presente della possibilità, del tempo a disposizione dei pellegrini, è stato, tra virgolette, ridotto ad un'ora, pur senza perdere la bellezza e i contenuti che passano anche attraverso la forma integrale. Io sì, l'avrò visto forse dieci volte, dodici volte, non lo so, però l'ho visto tutte le volte col piacere di vederlo, soprattutto con l'emozione ogni volta, ci sono alcuni punti, alcuni passaggi del musical che mi hanno emozionato tutte le volte, per cui, insomma, è stato veramente bello. Quindi l'ho proposto volentieri a tanti e con tutti mi sono volentieri fermato a riguardarlo, perché veramente è un momento, come dice Giovanni spesso alla fine di ogni rappresentazione, è un momento di preghiera. Cioè ti rendi conto alla fine del musical che hai meditato, hai riflettuto, hai goduto, sì, hai goduto uno spettacolo bello, perché è fatto bene in maniera professionale, hai pianto, ti sei emozionato e soprattutto ti rendi conto che hai l'animo pronto alla preghiera, lo hai già fatto, l'hai fatto con loro, perché poi loro vivono così. Giovanni ci può rivelare quello che fanno poco prima di entrare in scena. Sì, beh, solitamente, appunto perché viene vissuto come un momento di preghiera, ci si raccoglie tutti e si prega insieme. Questa è una preghiera che inizia nel modo canonico, se così lo vogliamo chiamare, e continua per tutto lo spettacolo. Cioè, quindi proprio questo coinvolgimento, questo avvicinarsi di quelli che sono gli attori, di quelli che sono i ballerini, che in quel momento diventano come fratelli che collaborano assieme per portare avanti quello che vivono dentro, per trasmettere quello che vivono dentro. Io fino a qualche tempo fa ero anche in scena, poi ho lasciato un po' spazio ai più giovani, ad altri, ma ricordo bene, lo sento anche da fuori, che realmente c'è il desiderio di trasmettere tutto quello che si è vissuto prima nelle prove, nella preparazione. E ricordo moltissime persone che sono venute a vedere lo spettacolo, pur essendo stranieri, pur essendo della Polonia, brasiliani, che quindi probabilmente non capivano tutte le parole, uscivano fuori con la stessa commozione, con lo stesso carico di forza, che sicuramente in gran parte viene da lui, viene dalla figura del Santo, che ogni volta è come se si ripresentasse in noi e in chi ci guarda. Tu hai conosciuto Padre Pio quando? Come musicolo, diciamo, come figura, diciamo due anni e mezzo fa. Quindi non hai presente, non ti è arrivata l'immagine di Padre Pio trasmessa dai tuoi genitori, dagli adulti? L'hai conosciuto proprio già da adulto? Sì, l'ho conosciuto in un modo strano, perché l'ho conosciuto volendo fare teatro. Cioè se in quel momento ci fosse stata un'altra rappresentazione, non l'avrei conosciuto. Poi ho avuto una seconda conoscenza di Padre Pio ed è stata venendo qui. A San Giovanni Rotondo ho avuto molto il desiderio, sia per incontrare i giovani, sia per conoscere il contesto di questa città, di girare molto le strade. E in questo viaggio ho incontrato tantissime persone, incontri diciamo casuali, che poi non sono mai così, che mi hanno raccontato di questo Santo, di questa figura, che loro ricordano perché l'hanno incontrata, l'hanno conosciuta. E lì ho incontrato realmente tutta quella spiritualità che c'è dietro questa persona. Una persona che ha cambiato la vita di tanti, da calzolai, da persone che sono persone comuni, eppure che una sua parola, un suo gesto li ha cambiati. Quindi la prima conoscenza è venuta tramite il musical, che mi ha dato la possibilità di vedere un uomo, ragazzo, che ha vissuto tutte le tribolazioni di ogni giovane, le sofferenze, le difficoltà, e le ha superate nella lotta. Nella lotta accompagnato da due figure bellissime che sono presenti nel musical, che sono la figura del suo angelo custode e la figura della sua anima. Non svegliamo altro, però. Sì. Non tanto. Intanto, diciamo, invitiamo tutti il 21 a poter vedere in due orari. Sì, questo lo facciamo anche alla fine del... In due orari che sono, credo, 16 e 30. 18 e 30. E 18 e 30. E poi diciamo anche che per chi non dovesse avere la possibilità di essere qui a San Giovanni Rotondo o giorno 21, potrà comunque approfittare di ottobre e di novembre, altre date sempre concentrate nei weekend, così da poter vedere ancora lo spettacolo. Così come anche per domenico, per chi non ha la possibilità a giorno 21 di essere a San Giovanni Rotondo e quindi di poter vedere il suo spettacolo sempre alle ore 21, il 21 alle 21, è facile da ricordarsi. Il suo spettacolo potrà comunque godere, diciamo, di questa arte dedicata a San Pio e un po' tutti i racconti della sua vita nelle canzoni che forse riusciremo a trovare in un CD prossimamente o... Sì, sicuramente faremo un CD più rielaborato dove metteremo più canzoni forse non su Padre Pio perché ormai il disco su Padre Pio è già avviato e comunque poi chi vuole contattarmi anche su Facebook o su YouTube troverà i video della serata. Poi non si sa mai, può darsi che se le cose vanno bene si farà una serata. Si ripeterà. Si ripeterà, sì sicuramente. Si ripeterà. Giovanni ha conosciuto Padre Pio due anni e mezzo fa, sicuramente domenico, molto molto prima. Forse già in fasce. Sì, io ho la fortuna di essere nato a San Giovanni Rotondo e di avere dei familiari che comunque hanno avuto anche a che fare con Padre Pio e quindi sicuramente mi hanno messo loro alla via e ho avuto anche la grande fortuna di cominciare a frequentare il santuario di Padre Pio già da piccolo cominciando a fare il chirighetto con Padre Paolo Cuvino a cui sono legato davvero molto e poi pian piano ho cominciato a entrare nell'ambiente cominciando poi pian piano a conoscere Padre Rinaldo e poi ho iniziato a lavorarci e oggi sono ancora tuttora lì dipendente e fortunato perché comunque ho avuto la possibilità di conoscere Padre Pio non solo attraverso la testimonianza dei vari frati Cappuccini che ci sono stati tra cui vorrei anche ricordare Fra Modestino che è stato di grande esempio e ho avuto anche la possibilità di conoscere tante persone, tanta gente che viene lì e molte volte si confida con noi che siamo alle prese tutti i giorni con la grande folla dei devoti di Padre Pio Devoti che poi ovviamente non mancheranno a questi due eventi è vero Don Salvatore? Ci sono due tipi di fede qui, no? Quella matura, o comunque è venuta fuori dopo forse, quella di Giovanni è quella che è sbocciata da subito Cioè due incontri diciamo con la figura della santità di San Pio Chi l'ha incontrato da sempre, quasi fa parte della sua famiglia e chi lo incontra quando già magari la propria spiritualità ha fatto un cammino ha raggiunto una maturità, una capacità anche critica diciamo di andare incontro a una narrazione, un racconto della vita di Padre Pio che tanto spesso magari se può colpire per le cose esaltanti, particolari, spettacolari quando si è più giovani, più ragazzini magari questa stessa cosa fa nascere qualche dubbio magari in chi è più maturo, insomma più critico Due punti di vista diversi Due punti di vista diversi che indicano due modi di approcciare la figura di Padre Pio e che conferma il fatto che veramente Padre Pio è di tutti nel senso che Padre Pio con la sua vita è capace, resterà capace di parlare ai più piccoli ai semplici, a chi sta ancora crescendo e anche le persone magari adulte agli intellettuali, agli uomini di scienza, insomma è una figura polietrica veramente che riesce a dialogare con tutti, ce n'è per tutti Arriva a tutti, effettivamente Allora in conclusione di questo nostro incontro vogliamo ricordare gli appuntamenti e cominciando da Domenico che insomma si sta preparando con la voce, no? Stai facendo un po' di allenamento Sì, sì, adesso abbiamo le prove, siamo molto, diciamo non tesi, ansiosi perché sai Si riscalda Se poi non c'è l'ansia, diciamo, non è un concerto, l'ansia c'è sempre La cosiddetta adrenalina Sì Ci stiamo preparando e vi aspettiamo insomma il 21 settembre, venerdì alle ore 21 nella piazza di San Giovanni Rotondo, Piazza Europa Con la presenza anche di un ospite d'onore Con la presenza, sì, del grande Enzo Salvi, sì Un comico, quindi sul palcoscenico Domani ore 21, Piazza Europa, San Giovanni Rotondo Il concerto per Padre Pio di Domenico Consale Invece, sempre domani, un po' prima Un po' prima come orari Riparte un fremito d'Ali Riparte un fremito d'Ali, sì, riparte alle 16.30 e alle 18.30 Sono due spettacoli di un'ora e dieci l'uno E poi continueremo ad ottobre e novembre Ogni venerdì, ogni sabato e ogni domenica Il venerdì su richiesta, sabato e domenica invece sempre con due spettacoli Uno alle 16.30 e uno alle 18.30 Poi nel sito un fremito d'Ali La gente potrà trovare tranquillamente tutto il calendario Sì, perché comunque arrivano telefonate anche qui in redazione Per sapere gli orari È successo anche l'altra volta Quindi, insomma, è facile che lo richiedano anche adesso Tutte le informazioni si possono trovare sul sito Ovviamente, oppure chiamando anche qui Insomma, noi siamo da aiuto Il sito apporta proprio il nome del musical Unfremitodali.it Unfremitodali.it Invece approfittiamo di questa piazza, Don Salvatore Per dare anche qualche altro appuntamento che ci riguarda Che riguarda i giovani Esatto, noi come sempre vorremmo tornare con questo servizio ai giovani Anche attraverso Teleradio Padre Pio Per cui sempre con Anna Maria Sì, speriamo di partire a breve Stiamo lavorando sull'idea La stiamo affinando così Che veramente ci ritroveremo di domenica in domenica In quell'appuntamento che ci vede insieme Con e per i giovani Perfetto Allora, grazie Don Salvatore Grazie Giovanni E grazie Domenico Tanti auguri anche per questi eventi Che stiamo per vivere Grazie